Dammi il ciac Ciac Buonasera, allegria e malostia, come sempre sapete che non mi piace gravare che mi dà un po' il culo perchè a questa ora io devo fare la siesta invece no prima di dire un manager dopo ho due e ora ho un altro non so di che c***o me lo ho trovato praticamente uno, due e tre manager tre manager e uno più cavolo che l'altro praticamente, come sempre acabo di lavorare non ho capito di fare niente e mi sento qui come AuronPlay sentato e voglio contestare con una domanda in Instagram in Instagram mi ha messo una domanda e io voglio contestare perchè se non vi piace questo video cerrarlo era per Minecraft uno mi pregunta Pino, qual è la tua comida preferita? La mia comida preferita è la più semplice del mondo spaghetti aglio olio e peperoncino e che è? spaghetti acco e peperoncino guindiglia ma guindiglia calabrese quella piccante che domani ti brucio il cuore sicuramente non me lo avete sentito allenato come sempre o no? perchè io parlo come il c***o no? il c***o parla come io voglio la cucina e ve lo insegno ve lo explico ok? e voi dovete lo mirate abietta cada persona 100 grammi eh non ma 100 grammi mira ne lo peso io 100 grammi a tomare il c***o il tempo qui lo dice 11 minuti come sempre e poniamo 10 a tomare il c***o un minuto o meno quando pita già sta acordate di mesclarlo eh acordate di mesclarlo eh acordate di mesclarlo stare qui mesclarlo mira mira che necessitiamo pimenta che c***o pimenta guindiglia calabrese piccante acco perejil e olio di sal iata bene per faena mettere olio qui olio abbondanti aglio acco ajo mira aglio sono buonissimi ora vi explico questo è un plato che quando noi eravamo joven hace muchos anni quando volviamo da discoteca a bailar arrivavamo in casa con claro perché bebia bam 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 stava toda la nocce e tenia hambre arrivavamo in casa alle 5 da mattina alle 7 e questo è il plato típico che avevamo in italia quando eravamo joven spaghetti aglio olio e peperoncino ma qui in barcelona la gente si va a comere ciurro alla 5 da mattina con cioccolato o a mcdonald 24 ore a comere un'hamburghese di 4 mesi a me camera lo grande chef le chitano il corazon le chitano il corazon perchè il corazon le chieda ma hai la tua mappa al culo tira tutto dentro mira tira tutto dentro hai la tua mappa nel culo tira mirare questo questo non romperlo nunca non romperlo nunca perchè se lo rompese l'avevi scagata per impossibile comerlo perchè è piccante che ti caga sei buono? così e ora se tiene che doradire l'alco dorar dorar l'alco cazzo dorar l'alco c'è uno mi ha chiesto quanto c'è lo lupo ma dopo faccio una foto e te la vedo se sei buono stai gravando talmente che è semplice non mi ha cambiato mi ha cambiato guarda i jersey mi ha dato una carta allo re mi ha dato la carta e ho dato la carta e il giorno al giorno voi sceglie si e vi ho avuto i jersey guarda che buono mi ha fatto il masker non mi ha cambiato scoperto uno due tre fai bai fiesta e ricetta Eccolo ricettone, 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 ricettone. Vieni qua, guardamelo. Miro la quitto. Lo vedi? Si sta dorando. E la guindiglia sta comienzo il sapore. Non romperla, ricordame non romperla. Un punto importante, per che non si chiame il ajo, mettere un po' di acqua di cozione, sacarlo dal fuoco, perché, miro, ricordame di mettere il salo in acqua. Guarda l'acqua. Ora ho il spaghetti. Fuoco lento. Fuoco lento ora. Patapin patapin. Una spruzzatina di Giulio Alberto, per fare qui. Ora stanno. Guarda cosa faccio io. Guarda che pinta, guarda se è semplice. Questo non romperlo, lo mettiamo come decorazione. E questo? Ah, stiamo a ponere il culo. Ma che spettacolo. Vamo a provarlo. Mirai, io ho tenuto anche due spaghetti. Mirai che spettacolo. Semplice, l'avete visto? Molto semplice, non sta ingancioso. Eh? Se chi lo passo che vi dico. Vamo a provarlo. Al dente. Buonissimo. provarlo, chico. E non ponermi il chiesa qui. Non ponermi il chiesa perché mi ca... Ora, mentre mi como questo, voglio contestare un'altra pregunta. Mentre sto sfruttando. Dammi questa cazzo di pregunta. se l'inflammazione non si va e il dolore vive. Si, l'inflammazione non si va e il dolore vive. Si, l'inflammazione non si va e il dolore vive. In tema impresa. Ristorazione ha tenuto 2 milioni di offerte. E a TODO le dico no. Perché? Perché non mi sono... Wow. Non tengo gana di collaborare con nadie. Io so io e già sta. Mi hanno offretto montare pizzerie, ristoranti, bar. E ponermi i nomi. Mi davano dinero. Nella vita il dinero non è tutto. Molto dinero sì che è tutto. Che coce e moto hai? A te che coi ti importa? Ah, buono. Posta è Instagram. Dio. Accomi di comprarmi una moto. Una Honda. E un coce... Tengo un coce piccolo. Questo mi dice pizza o pasta? Pasta. Io sono male di pasta. Questa... Ma questa eh? Ha un montone di domande, non una? Che mi dice... Pino, sei gay. Come dice il mio grande amico Ibrahimović. Vieni a casa. E te lo faccio vedere. E trai anche a tua hermana. Ok? Non sono gay. E non ho incontro a nessuno che sia gay. Che sia cada uno. In sua vita può fare lo che vuole. Ok? Viva un mondo libero. Por mu... Por mu... Por hub o x video. E non lo capisco. Non... Non so che... Non lo conosco. Non lo conosco. Non so che è. Che è? Io non sono tanto gilipolli da ammirare. Io lo faccio. Avete capito? Plato... Che non ti sale bene al cocinare. Non è un plato al cocinare. Ma almeno è una... È una salsa, tio. La maionese, tio. Non è in maniera, tio. È la cosa più semplice, tio. Invece è corta sempre. No? Avete capito? La maionese, tio. È una guerra perdita, tio. Non so che cosa fai. Te lo giuro. È così semplice. È così semplice. E a me non mi sale. Cosa c'è? Che riesco a creare? Voi al super? E la compro. E la tomatola. Cosa c'è? Questa è buona. Marca di tomate. Del supermercato. Per essere una buona pizza. Io lo sé. Però non te lo dico. Lo sai perché? Perché... Stiamo in contatto. Questa che non mi pagano. Non te lo dire. È una molto buona che io uso anche. La uso in toro. Però... Come... Stiamo in contatto con lui. Avesse suelta qualche... Eh? Qualche soldino. Eh? Soldi. Che musica e scuccia. Mira. La maggioria sono italiano. Vasco Rossi. Liga Bue. Renato Zero. Gli 883. A me mi gusta cantarle in cima. E los inglesi? Claro. Come me intendo una mierda. Non puedo cantarla. E scuccio. Bruce Prinsley. Status Quo. Eh? Rolling Stones. Eh? Beatles. E Queen. Queen fantastici. Per lastima che è salito. Era su un grande tipo. Come dice? Come te sentiste quando ti volviste viral? Bien. Ha passato un treno. L'ho colpito. E mi divierto. Io dico sempre. Finché la barca va... Va. Quando la barca non va... Se onde. E ya sta. Mira che semplice che è. Questo mi dice. Posso essere l'ultima pregunta? Si. 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 Come sempre me lo è passato bene. Allegrià. Eh? Me lo è passato molto bene. Me è divertito. Espero che ho avuto bene. Lo avete divertito. Seguirmi. In Instagram. E immagini. Avremo cose buonissime. Io. Vedrai. Tra un pochino avrà sorpresa. Molta sorpresa. Seguimi. Instagram. e per la calle no, per la calle no ciao, hasta il prossimo se hai, se non hai a tomare un po' il culo